Bentornato negli studi di Temporadio al comandante della polizia locale di Castelgofredo e Casalmoro, di nuovo con noi Daniele Pisciotta. Bentornato comandante. Buongiorno a tutti. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione, ricordo una delle tante coordinate che è il numero per sms e messaggi whatsapp il 338 17 19 105. Dunque, allora cominciamo subito col parlare dei controlli serali, perché state lavorando parecchio, con la bella stagione che è ancora in corso. Ancora in corso, non dico che siamo quasi a conclusione dei controlli serali perché si potranno fino alla fine di novembre, salvo emergenze o cose particolari che emergeranno entro la fine dell'anno. Effettivamente abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo fatto parecchi controlli, noi come sapete, l'ho già detto in precedenza, facciamo i controlli, però con l'ausilio anche delle strumentazioni di cui ci hanno dotato. In effetti abbiamo sempre a bordo con noi l'etilometro. Recentemente, in una delle pattuglie salali che abbiamo fatto, mi sembrava un incalo il fenomeno dell'uso dell'alcol alla guida. Invece, nell'ultimo controllo, dei controlli fatti, adesso vi parlo di circa 15 persone controllate, due erano presenza di tracce di alcol nel sangue ma non fuori dai limiti, mentre l'ultimo, come succede sempre, l'ultimo controllo che facciamo a fine serata, era quasi l'una del mattino, praticamente è risultato positivo al test e anche con valori abbastanza alti. Pensavamo fosse comunque in calo, avessimo fatto questa campagna di prevenzione nel tempo per Castelgolfredo, ma sebbene tutto ciò abbiamo trovato comunque proprio in un controllo normalissimo, ma ripeto, ce l'accorgiamo immediatamente. Nel controllo che facciamo, quando ci mettiamo in mezzo alla strada e cerchiamo di fermare l'individuo, vediamo i tempi di reazione che ha nella fermata. Quindi non ci sono più le macchine di una volta che proprio per il discorso di freni si fermavano molto avanti, erano una macchina dell'ultima generazione, nel uscire con la paletta per fermarlo praticamente si è fermato quasi 50 metri oltre, quindi già lì c'era qualcosa che faceva presagire che l'individuo non fosse a posto, infatti dei controlli effettuati erano proprio fuori sia nel primo caso che nel secondo caso, si sa che tra una prova e l'altra devono passare almeno 5 minuti, anzi la seconda prova era in leggero aumento, quindi comunque... Ah, quello se lo stava metabolizzando? Non era tanto che aveva bevuto, quindi non era... Ma una curiosità comandante, sono dei recidivi quelli che fermate o cioè quelli che trovate o cosa? Perché per esempio è di ieri la notizia di un cittadino della bassa Bresciana che è stato trovato con il limite di 4 volte superiore il massimo consentito e gli era stata restituita la patente il giorno prima, che gli era stata tolta per guida in stato d'ebbrezza. Cioè allora non impari niente proprio. No, nel nostro caso no, dei recidivi non mi è mai... Sì, forse una volta solo è capitato, allora gli hanno applicato poi la sospensione aumentata con tutto quanto. Nel nostro caso no, ultimamente no, sono gente che lo fa la prima volta e gli basta poi perché questa volta... Diciamo quando ancora oggi quando rivedo le persone a cui ho fermato all'inizio mi odiavano, dopo hanno capito di aver fatto una sciocchezza, anzi sono se rendo conto di aver cambiato anche stile di vita, quindi non è proprio così. Però effettivamente chi ha la recidiva c'è, a me non è capitato, solo una volta, ma ripeto una cosa di dieci anni fa circa, poi nessuno mi è più incappato in quelli che ho fermato nell'uso dell'alcol. Ecco, e poi adesso state anche rimodificando comunque i vostri turni perché sono ricominciate le scuole. Ci sono ricominciate le scuole, sì effettivamente hanno la mattina la presenza nostra è vincolante e importante affinché gli alunni siano in sicurezza, ma io voglio ribadire, come ho detto altre volte, perché non si dice spesso, noi ci avvaliamo del servizio offerto dall'ACLI, noi abbiamo circa sette persone che ci aiutano nella gestione dell'uscita degli alunni che fanno parte dell'ACLI. Questi nonni vigili hanno, proprio nonni vigili si chiamano, hanno la pettorina con tanto identificativa, gialla, sono benvoluti anche dai ragazzi e sono presenti in tutti gli incroci. Oltre danno proprio supporto a noi, non è che sono isolati e si arrangono, no, danno supporto e quindi c'è un agente della polizia locale, in più c'è un nonno vigile. Ma danno un prezioso aiuto perché ci permettono di essere anche noi più presenti sul territorio e non essere concentrati tutti sulle scuole. Quindi all'inizio necessitava che il nostro servizio fosse di 3-4 unità addirittura. Con il loro aiuto io riesco a mettere solo due unità alla mattina alle scuole, quindi riusciamo a fare un buon servizio. Quindi ringrazio veramente i nonni vigili per il prezioso aiuto che ci danno sempre. E proseguono anche i controlli per i rifiuti, Questa è un'altra piaga che non riguarda solo me. Sì, questa è un'altra piaga, no. Infatti era uno degli obiettivi che ci aveva posto l'amministrazione, anzi ho insistito anch'io che fosse messo negli obiettivi dell'amministrazione per quest'anno, perché di fatto è un obiettivo che non finisce mai. Io tutti gli anni vorrei non metterlo come obiettivo, ma di fatto ho bisogno di farlo perché ci deve essere un controllo capillare. Noi, come vi ho detto, facciamo i controlli sia abbastanza capillari, quindi non è che multiamo senza aver fatto una sorta di accertamento. L'accertamento c'è la parte nostra, cerchiamo di verificare in base alle segnalazioni, in base anche all'impianto di videosorveglianza, chi ha smaltito non correttamente il rifiuto, verifichiamo con quello che viene smaltito. Cioè c'è tutta una sorta di... non è un lavoro di 10 minuti, ripeto, tra il controllo primario, il sentire le persone verbale e la verbalizzazione, passiamo passano dei giorni, quindi riusciamo... però i controlli sono stati fatti veramente a dismisura su ogni tipo di rifiuto. Noi addirittura controlliamo anche chi getta il verde, ok, nell'area attrezzata verde, e poi smaltisce, non è che si porta a casa il sacchetto giallo famoso che utilizza per il verde, no, lo butta lì accanto e quindi quello è un smaltimento non corretto, non conforme. Certo. E molti amano anche su quello, quindi cerchiamo di educare in questo senso i cittadini. Allora, fermiamoci un attimino con il comandante della polizia locale di Castel Goffreddo e Casalmoro, Daniele Pisciotto, ci troviamo tra un paio di minuti. Alla farmacia Giovannoli, a Castiglione, più spazio, più assortimento, più consiglio e strumenti innovativi di prevenzione, cura e benessere. Da Giovannoli anche servizio infermieristico e test sulle tolleranze alimentari Natrix. Farmacia Giovannoli, a Castiglione delle Stiviere, via Mazzini. Telefono 0376 63 25 16 www.farmaciagiovannoli.it Orario continuato dalle 8 alle 20. Una promozione da non perdere nei comuni dell'Alto Mantovano. Serviti da SICAM. Adesso è possibile allacciarsi alla rete dell'Acquedotto con soli 350 euro più IVA, contatore escluso. Investi in salute. Allacciati all'Acquedotto. Per informazioni, rivolgiti agli uffici del gruppo SISAM a Castel Goffreddo, in Largo Tommasi 18 o telefono allo 0376 77 18 69 Sabato 8 ottobre, alle 20, si terrà un grande evento musicale a Palazzo Bondoni Pastorio di Castiglione delle Stiviere. I virtuosi del quartetto NUS in un concerto esclusivo con il pianista Filippo Gorini. Musiche di Schubert, Janacek e Schumann. Per informazioni e prenotazioni 0376 67 92 56 Dal 30 settembre al 2 ottobre Guidi Zolo da mangiare Fiera di ottobre con cucina di strada Tre giorni di street food Intrattenimento, esposizioni e Luna Park Guidi Zolo da mangiare Dal 30 settembre al 2 ottobre Presso il Parco Barriera Chi dona il sangue può sentirsi orgoglioso di se stesso poiché con il suo gesto ha salvato una vita Dona il tuo sangue a chi ne ha bisogno Donare il sangue non costa niente Basta avere un'età compresa tra i 18 e i 60 anni Se vuoi essere anche tu orgoglioso di te stesso Lascia il tuo indirizzo e numero di telefono Alla sede Avis di Castiglione Presso il centro di donazione di Via Ordanino Telefono 331 52 01 165 Dona il tuo sangue Sarà il primo ad esserne contento Il Gazzettino Nuovo Settimanale di informazione gratuito dal 1987 Tutti i giovedì nelle edicole Per la tua pubblicità sul Gazzettino Chiamalo 0376 63 17 09 Una tenda di qualità È un elemento di arrede design Che fa la differenza Tappezzeria Tirelli Loris Tende da sole Per abitazioni e attività commerciali Vasto assortimento di tele e tessili per terrazzo Con tessuti tecnici per esterno Dai colori inconfondibili dei migliori marchi Novità Vasta gamma di materassi Permaflex Con qualità a prezzo E invito di prova Tappezzeria Tirelli Loris A Castiglione in via Mazzini Telefono 0376 67 33 90 Dettagli che fanno tendenza Arredamenti Volumi A Castiglione dell'Estiviere Trasforma in realtà la tua idea di arredo Nell'un innovato showroom Puoi trovare una vasta scelta di cucine personalizzabili In ogni loro aspetto Soggiorni Salotti completi e modulari per ogni esigenza Camere e camerette Con le esclusive proposte di grandi produttori italiani Arredamenti Volonghi In via Mazzini a Castiglione dell'Estiviere www.arredamentivolonghi.it Visita la nostra pagina Facebook Arredamenti Volonghi Dal 1960 Arreda la vostra casa Tempo Radio In studio con noi c'è Daniele Pisciotta Comandante della Polizia Locale di Castelgofredo e Casalmoro Salutiamo Mary che la ringrazia Perché da quando c'è lei come comandante C'è molta più attenzione anche ai regolamenti Quindi Mi fa molto piacere Tra i vari messaggi arrivati Sono tantissimi Adesso vedremo di dare voce agli ascoltatori Dunque stavamo parlando di controlli Assicurazioni, revisioni Anche come va la situazione? Queste sono sempre sempre in aumento Ripeto con l'impianto che abbiamo Addirittura Targhe Non solo ci siamo dotati Anche di Diciamo di cellulari Tablet che sono collegati direttamente Ai nostri Diciamo Ai varchi elettronici Quindi riusciamo a capire in ogni punto O che siamo Se una tua vettura appunto è sprovvista Di assicurazione o revisione O addirittura rubata Quindi stiamo veramente Facendo controlli a tutto spiano E anche perché abbiamo un allarme Che ci dice La macchina non è a posto Quindi è tutto un suonare Un suonare continuo 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 Di macchine proprio non assicurate E non revisionate Cioè io non Sai che da quando non c'è più l'obbligo Di esporre Sì Dell'esposizione Però noi ci siamo dotati ovviamente Di questi sistemi Per riuscire a trovare Ma veramente Ogni giorno vi posso dire Che la mia pattuglia Trova un veicolo Non assicurato O non revisionato Cioè non ci stiamo a volte dietro Nel fare gli atti Perché devi inserire Il tutto in un sistema Che si chiama Sives Dove Lasci tracce del sequestro Del veicolo e quant'altro Quindi veramente I miei colleghi Fanno fatica A starci dietro Al discorso Delle assicurazioni È un provvedimento Che abbiamo Già visto contestare A diversi ascoltatori Perché obiettivamente Prima con l'esposizione Tu guardavi Il 23 di settembre Mi scade Quindi ecco Adesso Sta là Nel libretto La macchina Dopo tantissimamente Dicono che non hanno Resevuto il messaggio Da parte Appunto O delle assicurazioni O dal centro Le revisione Io dico Che non sono obbligati Comunque a farlo E quindi Ce ne devono Premonire loro Di verificare I loro documenti Allora Dunque Volevamo Parlare Di un altro Di un altro Argomento Cioè Sempre legati ai controlli Ringrazio Michele Perché dice Una ricerca Dice Che Sono sempre di più Dice Michele Gli incidenti Per gente Che sta In chat Al volante Su facebook Su Eccetera Dovete cominciare A moltare anche le donne Anche se vi fanno il sorrisino Dice Michele Vabbè Questa È una Una cosa Adesso opinabile Però Effettivamente Era anche la prima pagina Di un quotidiano Dell'altro ieri Morire di chat Proprio Eh sì Effettivamente E mi ha detto Che sono più le donne Che vanno in chat Che degli uomini Spesso Non solo Dico anche Allora È sempre illegale Tenere il telefono Alla guida e quant'altro Se non altro Quando guidi E quel telefono Cioè guardi La strada In questo caso Effettivamente Ci do ragione Comunque Non solo a radioscoltatore Ma a quello che è accaduto Effettivamente perché Non dai più attenzione Alla strada Ma dai attenzione Al telefono Per leggere i messaggi Quindi abbassi lo sguardo Questo È sicuramente Una piaga Noi incidenti Particolari Dove abbiamo rilevato Quanto Questo tipo di Diciamo Infrazione Non siamo mai riusciti A rilevarlo Nel senso che Vabbè I incidenti Noi li rileviamo Quasi tutti i giorni Quest'anno Abbiamo circa rilevato Dai 15-16 incidenti Incidenti Dove è emerso Il discorso del telefono O della chat No Anche perché ci vogliono Testimoni In quel caso lì Che verificano Quello che è stato detto Certo Se ci fosse un incidente Di una gravità tale Certi accertamenti Noi li facciamo Ovviamente più Affroffonditi Andremo in questo caso Magari a Verificare anche I tabulati telefonici Cercare di capire Se in quell'attimo Lì era il telefono Ma ci deve essere Un incrocio di informazioni Quindi una testimonianza Dice sì era il telefono Era girato Era distrato Per certe cose Non è facile Dimostrarlo Però è giusto Questa osservazione Ci aveva raccontato Di aver fermato Un'automobilista Che stava mandando Un messaggio Prima ha finito Di scrivere il messaggio L'ha inviato Poi mi dica Sì ma quello succede Un attimo che finisco E dopo E quello succede Il problema più importante È il messaggio Della patente ritirata Anche davanti a noi Finiva la telefonata O il messaggio Dopo metteva giù il telefono Sì quello sì O se no No ci capita anche Una cosa ridicola Io vedo volare Telefoni ovunque Oltre Ma scusi Però il codice Non vieta di grattarsi Le orecchie col telefono No ma c'è anche questo E' evidente tanti Ci hanno fatto dei ricorsi Dicendo Eh mi sto grattando Le orecchie Io O mi metto Le dita nei capelli Quindi Sì Devi dimostrarlo Noi tante volte Vediamo anche il telefono Ripeto Io ho visto tanti Quei telefoni Volare Dietro Proprio lanciati Proprio per evitare La contravenzione Allora Marica ha risposto All'ascoltatore Dice Servono più agenti Donna Comandante Perché voi uomini Quando fermate le donne Scrive su facebook Mentre guidano Anziché togliere la patente Le lasciate andare Vabbè Più agenti Donna Abbiamo due donne E bastano E sono Cattive Sono giuste Giuste e severe Però Riescono a fare comunque Il loro lavoro Egregiamente Allora Piscotto Sono certo Che a Castelgofredo Ci sono extracomunitari Che non sono assicurati Girano tranquillamente Mi spiace Perché se capita Un incidente Poi Che capita Allora Io voglio sempre sfatare Voglio dire una cosa Allora Tutto Noi Non facciamo distinzione Tra extracomunitari Italiani Di qualsiasi generazione Di qualsiasi etnia Posso assicurare che è così Ma voglio dire una cosa Non è vero Che c'è La maggior parte Legata agli extracomunitari Perché io trovo Trovo gente Anche di Castelgofredo Gente del posto Quindi non è Questa cosa Voglio proprio Che non venga detta Sempre in continuazione Certo C'è una buona percentuale Però ne trovo tantissimi Dei nostri Ecco Tra virgolette Che Che incorrono In questa sanzione Quindi ripeto L'ho detto anche prima Vuoi la dimenticanza Vuoi perché non hanno Comunicato le assicurazioni Quindi Di fatto Non c'è Non posso dire adesso Una percentuale Certo È ovviamente più In aumento Quella degli extracomunitari Ma perché c'è un discorso Legato anche Al fatto che non lavorano Che devono Che c'è crisi lavorative E quant'altro Però ecco Io dico sempre Se non siete assicurati Non siete revisionati La macchina Lasciatela a casa Quando avete i soldi Persista male A meno che c'è Un'emergenza Ci sono anche Poi i giudici Per fare il corso Per carità Però non utilizzate I mezzi Che non sono assicurati Ecco Certo Dunque vediamo Tanti altri messaggi Allora comandante Ah vabbè salutiamo anche Anna che è quella Che ogni tanto propone Andare a fare un giro Con la macchina Con la sirena Va bene Allora comandante ragione Perché ci sono Perché ci sono anche Gli italiani Che fanno i furbi È vero Sì sì Assolutamente sì Non c'è differenza Anche lì tra l'altro Nel caso di recidività Va bene Ma se capita Che uno Proprio non si sia accorto Cioè In realtà Il giudice Ha eventualmente Anche se c'è una buona fede No Di fatto circolava Senza assicurazione Quindi non ci può fare niente Anzi O revisione Anche Sì sì Ripeto Tanti aspettano L'avviso Del centro revisione Ma non Non è così Non è Poi ti affidi anche Il servizio postale Metti caso che c'è un ritardo Allora dunque Abbiamo quasi finito Il messaggio Ed c'è anche un Comandante Complimenti Per come lavorate Con i cittadini Fate prevenzione In maniera delicata Ed educata Grazie Da parte di Ezio Di Castelgofredo Grazie Allora Dottor Pisciotto Salve ancora Ladri e spacciatori Ma voi Assieme ai carabinieri Siete bravi Saluto anche Roberto Anche che Grazie Le ha mandato Questo messaggio Questo l'avevo letto Nel ultimo anno Quando lo porterà A fare un giro Con la sirena Insomma va bene Allora Visto che siamo in chiusura Vorrei cominciare Con ringraziare Il comandante Della polizia locale Di Castelgofredo Casal Moro Daniele Pisciotto E chiedele anche Proprio In una battuta Voi state preparando Un rendiconto Per i contributi regionali Sì Il 31 agosto Abbiamo realizzato Il progetto regionale Ci avevano finanziato Il lotto B Quello delle attrezzature Tecnologiche Insomma E entro ottobre Rendiconteremo La regione Per avere un contributo Di 54.400 euro Che sono quelli Che ci aspettano Appunto per Ne abbiamo spesi Pochissimi Perché come comuni All'incirca Mi sembra Sui 13.000 euro totali Tra Casal Moro E Castelgofredo E avremo Un contributo Di 54.000 euro Quindi abbiamo fatto Un buon progetto Che la regione Ha voluto finanziarci Ottima cosa Veramente Ringraziamo moltissimo Daniele Pisciotta Comandante Della polizia locale Di Castelgofredo E Casal Moro Grazie mille a tutti Grazie comandante Grazie mille a tutti Grazie mille a tutti Grazie mille a tutti Grazie mille a tutti Grazie mille a tutti